Ciao amici! Ciao da Massimo! Benvenuto, benvenuta nella Tanna del Ragno! Nuovo video diabolico, un video spettacolare, diabolico, grande recupero! No, a parte gli scherzi, l'entusiasmo, ok? Ma cerchiamo di tenere vivo questo video. Allora, intanto ti voglio ringraziare, te che mi stai seguendo, ok? Se non lo hai fatto, iscriviti al canale, almeno mi aiuti, ok? E fai passaparola. Questo mio canale parla delle mie passioni, che spaziano un po' dalla fantascienza, ai fumetti, avete visto, ai merchandising vario, un po' la mia vita. Ed in questo video diabolico parliamo nuovamente di Diabolic, perché mi è arrivato il quarto anno di Diabolic nella sua collezione Swiss, la seconda ristampa. Allora, per chi non lo sa, io Diabolic lo conoscevo ovviamente da appassionato di fumetti, però non l'avevo mai letto, mai letto. E da gennaio ho deciso di recuperare, piano piano, i primi 100 numeri. Bene, ieri mi è arrivato il cofanetto dalla storina con la quarta stagione, chiamiamola così, e andiamo a vederla insieme. Ok, questo è il cofanettino che mandano se acquistiamo, diciamo, l'anno completo con uno sconto anche particolare. Dentro c'è il solito adesivino, dove possiamo mettere l'anno. Io lo utilizzo come segnalibro. E andiamo a vedere cosa troviamo al suo interno. Allora, iniziamo subito col numero 37, Aguato Mortale. Eccolo qui. Vi faccio vedere la copertina e vi faccio vedere anche il retro, la quarta di copertina, con le donne, i protagonisti dell'albo. O in questo caso Lady Kant. Bellissima, bellissima veramente. E vi devo dire che nel corso di questi anni fumettistici che sto leggendo, Diabolic sta migliorando anche nei disegni. Veramente, veramente. Allora, mi sta apprendendo sempre di più. Abbiamo il numero 38, SOS Diabolic, bellissima questa copertina, con Valeria Donei, nella quarta. Abbiamo il numero 39, La statua maledetta, con Anna in quarta. Il numero 40, questo è un titolo che è tutto un programma, e non vedo l'ora di leggerlo, è La morte di Ginko. In quarta, Susi. Tutte queste belle bionde. Numero 41, Caccia a Diabolic. Bellissima questa copertina, veramente molto molto bella, con Dolly, altra biondona. 42, L'uomo di fuoco. Guardate qui Diabolic, sembra una cosa spiritica. Wow! Con Dolores Cordier, in quarta. Abbiamo La cella della morte, numero 43. Bellissima questa, guardate che spettacolo. Con Ginko, in quarta. Numero 44, Musica di sangue. Titolo molto 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 bello. Con Mirella in quarta. Numero 45, Tradimento. E abbiamo Anna Carena. Mi ricorda qualcosa. Numero 46, Sangue nell'abisso. Guardate che copertina horror. Con Irma, in quarta. 47, Il mistero della bara. Con Barbara. E per finire, il numero 48, La morte aspetta nel buio. Con una copertina veramente, veramente thrilling. Con questa persona, non so se è impiccata, non lo so. Spettacolare. Veramente spettacolare. Con Stefania. Ok, sono dal 37 al 48, diciamo il quarto anno di Diabolic, che sta veramente facendo, nella mia vita, una breccia importantissima. L'abbiamo visto, abbiamo dato, diciamo, un'occhiata, soprattutto anche per le bellissime copertine dell'epoca, che hanno un effetto veramente vintage, nella sua versione della seconda di stampa Swiss. Nulla. A tutto Diabolic, vi ringrazio per la vostra pazienza. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. E ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti da Massimo. Ciao, ciao. Ciao.